Terminato lo spoglio elettorale, ecco qui che l'area vestina si ritrova per l'ennesima volta a leccarsi le ferite per non aver avuto la capacità di inserire un rappresentante che possa portare in consiglio regionale le problematiche di un'area che sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia. Anche nell'area vestina l'affermazione del centrodestra del nuovo presidente Marco Marsilio è stata netta anche grazie alla forza trainante chiamata Lega che ha visto la candidata Carla Ricci alla prima candidatura piazzarsi al quinto posto e riportare 3.231 voti battagliando con i tanti politici ormai affermati grazie ai suoi sostenitori e soprattutto alla sua famiglia che ha voluto ringraziare pubblicamente via social. La vera sorpresa invece sono stati i voti riportati da Marco D'Andrea, sindaco di Civitella Casanova, candidato della lista civica azione politica che in punta di piedi ha accettato questa sfida ma al quale purtroppo non sono bastate le 1.388 preferenze. Infatti per un complesso meccanismo elettorale il seggio elettorale è scattato in provincia di L'Aquila. Altro risultato che potrebbe far ben sperare per il futuro arriva da Leonardo D'Addazio. Il sindacalista Brioni, candidato di Fratelli d'Italia, attraverso la propria pagina Facebook e in modo sarcastico pronostica l'assenza per altri cinque anni di personaggi di rilevo nell'area. D'Addazio è vero sì che ha totalizzato 791 preferenze dietro Guerino Testa e Sabatino Trotta ma ha dato un forte segnale all'amministrazione del comune di Penne che compatta su Nunzio Campitelli, candidato di Forza Italia, si è fermato a 491 preferenze. A questo punto le speranze di prendere a cuore anche le sorti di questa area sono riposte nei consiglieri eletti a Pescara come Sospiri, sempre in prima linea per i problemi come ospedale, viabilità e agricoltura, Guerino Testa e Vincenzo D'Incecco. Compito più difficile era per il centro-sinistra guidato da Legnini vista la grande crisi del PD in questi ultimi anni ma che a Penne ha sicuramente ottenuto discreti risultati con Valeria Di Luca che ha ottenuto 1684 voti non sufficienti per sedersi sui banchi dell'opposizione. Più opaca invece è la prova degli altri candidati che appoggiavano l'ex presidente del CSM. Gabriele Pasqualone, sindacalista Fialz, ha ottenuto 370 preferenze nella lista civica avanti Abruzzo di Daniele Toto. 311 invece le preferenze di Antonella Di Martile, assessore del comune di Loreta Prutino e candidata per la lista civica Abruzzo in comune, mentre il sindaco di Picciano Vincenzo Catani ha totalizzato 719 preferenze nella lista civica Abruzzo insieme. Chi invece si aspettava di più sono sicuramente i pentestellati di Penne che restano sempre il primo partito con il 31 per cento di preferenze, superando di netto la media regionale, anche grazie alle 9563 preferenze di Domenico Pettinari, a cui però non è bastata la visita sorpresa del leader Di Maio. Proprio in queste ore, con un comunicato ufficiale, il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle sta facendo autocritica, parlando di una dura sconfitta per i grillini, ponendo il dito sul fatto che è stato ignorato nelle votazioni online sulla piattaforma Russo i principi di territorialità fondamentali nelle elezioni regionali. Detto questo, si poteva lavorare diversamente tra le varie forze politiche presenti sul territorio che per l'ennesima volta esce fuori dal palazzo della regione Abruzzo.